Porca troia! Si piace spalmare i coglioni? No! 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 E andiamo a prima cosa che la portiamo a casa Ciao ragazzi sono i Guantanas e benvenuti alla nostra prima Challenge Lofer Con le nostre ragazze Che non saranno le piante ma tra poco arriveranno Noi prima di cominciare volevamo ringraziarvi Di cuore per il milione E mezzo Grazie ragazzi! Ma adesso Introduciamo le nostre Fidanzate Eccola con le nostre fidanzate Ovviamente sono state pagate Perchè profumatamente Si sa che Daniel comunque Infatti si chiama Giorgio Oggi ci sfideremo su tre challenge La prima Touch My Body Challenge Number 2 Whisper Challenge Don Daniel Challenge E chi perderà dovrà limonarsi Quindi o io Daniel o le mie ragazze E vorrei ricordare che questa sfida La proposta lui alla fine è la penitenza Round 1 Fight! Via È un dito Ma prendimi più dito Io sono certa che sia un dito La mano Tutto il polso È un dito Era il collo Ma è il collo mollo Fammi palpare a lei Il piede Si Si sente la puzzata Averso il tatto Terza manche È il culo È peloso Era il culo per forza Io sono pronto Polso No Si ma fammi toccare però Il collo Dai devi dirlo basta È la guancia Che palla E la guancia Cazzo Si 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 E la madonna Dov'è che Andiamo qua ragazzi sotto Si va sotto E non tocco un cazzo E fammi toccare Ginocchio Alla gamba Fianco Dai di qualcosa Gamba Pancia Che cazzo è? Forza La schiena Ma che maledetto Si 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 E siamo pari Adesso sono i cazzi in Italia Che cazzo me ne frega a me Bene ragazzi dopo lo sbagliato pareggio di Jacopo È il mio momento per far capire che qua Qua ne abbiamo di roba da fare Vinciamo sicuro Jacopo sei tranquillo Sì ma tu vai Ma cosa parlo? Io non vedo niente Il mento Gola Braccio Era il polso Il polso Che stronzo hai fatto così Amore non certi posti se lo mi emoziono È il collo È il collo È il collo raga È il collo raga E andiamo Jacopo che la portiamo a casa Vabbè Caviglia Una roba strana È il comito È il comito Il ginocchio Ma che mano c'hai tu? Dovresti conoscere le mie mani Ragazzi io ho provato Jacopo che mi dispiace Tanto io scommetto punto sul fatto che Giorgia faccia cagare quindi Il polso È già lingue eh Braccio Vabbè io vado a casa Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Comunque adesso ci sarà la rivincita Round Ciù E lo vinciamo facile Fight Calimero Nero è sul calorifero Calimero nero è sul calorifero Eh? Il mio amico greco sa tutti i giorni al mare Io non ho ancora capito una parola a parte Camino Calimero Calimero Camino Il mio amico greco è sul Fammi finire Calimero nero è sul calorifero Il mio amico greco è tutti i giorni con le viole Io ho capito La Camino Irene ha fatto un favore Calimero nero è sul calorifero Porca puttana non capisco un cazzo Calimero nero è sul calorifero Del Piero L'amico neo ha due calorifero Siete aritmetiche A voi piacciono i cinesi? Dai ragazzi siete aritmetiche? Ci piace? Spalmarvi il gorgonzola sulle linee Ci piace? Ci piace ma l'affanculo assolutamente Ci piace? Ci piace spalm... Oh dina te Ci piace spalmarvi il gorgonzola sulle mine Stai lasciando Perché dici ci piace Mangiare le mele No Ci piacciono le caramelle alla menta Chiaro O va a dirla Ci piace spalmarvi il gorgonzola sulle mine Qualcosa con i coglioni? Ma ragazzi è per Massimo Giretti Eh? La risposta corretta è Amore ci piace spalmarvi il gorgonzola sulle mine Con le mie amiche? Anche con le mie amiche Ci piace spalmare i coglioni Ci piace spalm... Ci piace spalm... Ci piace spalm... 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 Alla menta Ma non cazzo è la menta? A tutti i gusti Ci piace spalmare... I coglioni I coglioni Ma dopo ci piace parla piano Allora ragazzi Non esiste quello che dite Questo è per Paolo Limiti Ci piace spalm... Spalm... Nooo... Nooo... La risposta del giorno ragazzi era Ci piace spalmarvi il gorgonzola sulle mine Chi vince l'ultima sfida ha vinto tutto Round 3 Fight! Sei pronto? Sono pronto Come si pregò? Sto pregando via Prima della sfida Avrei passato un attimo E' andato su Facebook Poi sono visto foto Cose No però se ti sei visto le foto Cambia domanda Perché l'ho detto? Perché l'ho detto? Nooo... Perché l'ho detto? Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Che non me lo porto di scarpe Poi non me l'hai mai detto Cioè non è la qualun'informazione che uno sa Magari un giorno vuoi comprarmi delle scarpe Mi hai guardato un numero Invece no perché non mi fa mai un regalo carino Ragazzi perché io non sono molto feticista Quindi in realtà i piedi non li guardo mai Che va eh O la fai giusta o la sbagli quindi Eh Hai il 36 Non è vero? Non ho 36 Eh perché ho pagato? Sfigato Ahahah Sì ho il 36 Sì 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 Mamma mamma mmmm Ma che bastardo! Cazzo! La perla nera! No! La mineria! Tiè! Tiè! Non è così? Ma che cazzo dici? La mineria? Ma assolutamente no! Non eravamo lì a San Valentino! Che sficato! Che cazzo! Che booo! Ma vuoi fare il figo? Non sai neanche dove cazzo siamo andati a San Valentino? Eh ragazzi eh! Che sfigare! Che sfigare! Vabbè comunque questa domanda ve l'avamo fare perché... Eh facile! Ma in realtà avresti comunque perso perché non si chiamava la perla nera, ma si chiamava LA MIACCHIATTIVA! Il gioco non è che io so Io faccio le domande! Io non sono tenuto a sapere la risposta! Assolutamente no! Io sono tenuto solo a fare la domanda! Tempo fa, io ho scattato questa foto Non sarà mica quella con Chrissy! Sì! Che bastardo! Qual è il nome del ristorante in cui eravamo? Ma che monotonia! E questo ragazzi sentite adesso lo entrerò sotto una musica in montaggio è il rumore della vittoria la musica della vittoria Non mi pensare di stare zittonati Il nome ovviamente voi lo vedete, questa è un'impressione Questa volta è giusto eh perché ho controllato e quindi ragazzi si può dire La romagna No! Si chiamava BLEND FORM! E ho vinto io! E ho vinto io! E non ti vanno a casa! E ora tocca a Daniele! Siete al mio esperto! Raga ci siamo? Vedete sapere che io e la mia bellissima fidanzata Ci siamo già conosciuti l'anno scorso A cena La mia domanda è Stronzo Noi eravamo seduti a un tavolo Tu dove sedevi? Alla mia sinistra o alla mia destra? Non mi ricordo neanche quando hai fatto una fila con te l'anno scorso e stanno stronzi Eri alla mia sinistra o alla mia destra? Il tempo scorre Giorgia Il tempo scorre Alla tua destra No! Ero alla mia sinistra! Sì! Sì! Io ero a Caputati Ragazzi non l'ha neanche mangiato con me No ha mangiato con me Te la do perché mi fai pena Me la do perché è sempre così anche durante Allora la mia domanda è quante mutande di Victoria's Secret ho nel cassetto Allora diciamo che ho messo le mani nel suo cassetto l'altro giorno Non perché io sia un pervertito però Altre te la comprate io Quella che ti sei comprata da solo quest'estate 4 Di solito tra 4 e 5 Eh ragazzi è una domanda complicata Io dico 5 paia Vagliato Quante? No quante sono? 4 Porca troia lo sapevo! Lo sapevo che erano 4 Beh ragazzi allora la challenge è finita in pareggio Però siccome l'ultima sfida valeva tutto Abbiamo vinto io e Daniel E quindi adesso scatta automaticamente la penitenza E la penitenza è un bacio lesbo saffico Sì! Right here! Right now! Right here! Right now! L'inqua! 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 L'inqua in inglese è language Per il bacio 100.000 like così sulle unghie sulle unghie all'istante Leggiamoli così come le monete Tra l'altro le nostre ragazze ci avevano appena tradito Quindi dobbiamo pareggiare adesso Tra l'altro noi con gli uomini perché a noi piacciono gli uomini Ma dai lo sapevo mangiato Amore se ti pago pure per far finta che io sei il nostro sociale Quindi ragazzi la challenge di oggi finisce qui Noi vi auguriamo buon San Valentino se avete una ragazza Se siete single, medio, ve lo assicuro Adia! De la serpita! 100.000 like se volete una nuova challenge in coppia E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi vidi Un saluto partegliano a tutti! De qua! Pozzarellone! Basta guardare, fatemi un po' i cazzi vostri no? Ah si! Così! Così! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.